Io penso che sia una follia non fare i vaccini negli ambulatori dei medici, non farli nelle farmacie e non farli qui a Montecchio, scelga la regione dove, è alla Casa della Salute che è la cosa più appropriata benissimo, è nella zona industriale della Mensa di Talacchio dove c'è uno spazio enorme per parcheggiare ed è tutta roba del comune, quindi lo possono tenere giorno e notte, fare i vaccini giorno e notte e nel palavitri dove abbiamo fatto l'altra volta, importante che la regione si decida, non si può centralizzare tutto a peso, creano un danno alle persone, creano una difficoltà soprattutto alle persone più adulte, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, Ecco, quindi io spero, essendo fiducioso, ottimista e anche rispettoso del ruolo della regione, che ci ripensino e non è che fanno una cortesia al sindaco, fanno una cortesia ad una città, una comunità, ad un territorio che ha più di 50.000 abitanti e più della metà di Pesero, quindi che senso ha portarli tutti a Pesero?